Ciao ragazzi, oggi c'è un altro video con mio padre che sta aggiustando la tv e ragazzi un giorno vorrò un video sul mio tablettino Ermacchino il blazzino mi piace Ermacchino, se volete iscrivetevi per il suo canale e vi ho chiesto se volete che vi porto i giochi, quindi ciao ciao